allora ciao a tutte e tutti io mi chiamo cesar tridapali o cesar tridapali e sono qui oggi con l'immenso l'onore e la responsabilità di parlare con il dottore vittorio lingiardi di un libro che mi ha colpito moltissimo tantissimo diagnosi e destino che è appena uscito in Brasile dalla casa editrice Aine tradotto da Giulia Scamparini questo libro si vede qui quando penso veramente questo libro mi viene in mente quel meme di una testa esplodendo che si vede su internet veramente formidabile sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista umano senz'altro beh ma prima di parlarne vorrei presentare il suo autore vittorio lingiardi psichiatra psicoanalista professore ordinario di psicologia dinamica alla facoltà di medicina di psicologia della sapienza università di roma dove dal 2006 al 2013 ha diretto la scuola di specializzazione in psicologia clinica con nancy mc williams è stato coordinatore scientifico il curatore del manuale diagnostico psicodinamico in inglese il pdm 2 con il quale ha vinto per esempio l'american board and academy of psychoanalysis book prize io dico per esempio perché molti altri premi sono arrivati in seguito vero benvenuto dottor lingiardi lei ha avuto l'opportunità di vedere il suo libro in portoghese brasiliano grazie sì ho avuto l'opportunità ho visto prima in pdf la bellissima copertina e poi ho avuto modo di vedere il libro e anche di perdermi in per l'amore di una lingua che non conosco da parte mia ho sottolineato tanti brani che questa intervista rischierebbe di diventare una mini serie con diverse puntate ma devo qui oggi darle l'opportunità di parlare su questo di agnosi e destino affinché il lettore brasiliano possa conoscere meglio quest'opera dalle parole del proprio autore dottor lingiardi quando io ho studiato psicoanalisi all'università ho fatto una specializzazione di psicologia clinica la prima cosa che mi hanno proposto di pensare la differenza sostanziale tra una clinica dello sguardo e una clinica dell'ascolto certo le differenze ci sono ma qui nel libro entrambi le cliniche mi sembrano molto interdipendenti lo sguardo e l'ascolto possono essere un modo di pensare anche una chiave di lettura per aprire questo libro grazie cesar bellissima questa domanda e soprattutto grazie per avermi aiutato a dire che lo sguardo e l'ascolto si aiutano e si sostengono a vicenda nel viaggio dentro la diagnosi e dentro la vita che cerco di offrire ai miei lettori e le mie lettrici in questo libro beh insomma gli occhi sono in mezzo alle orecchie e quindi insomma sguardo e ascolto è difficile separarli soprattutto nella professione medica dove lo sguardo è rivolto al corpo entra nella più diretta materialità della della visita medica e c'è una bellissima bellissimo riferimento a una frase di Foucault che nella nascita della clinica dice l'indice che palpa le profondità però in questa idea delle profondità che sono sicuramente anche quelle della della semiotica e della e della diagnostica medica ecco che viene evocato invece il tema delle profondità della psiche che più facilmente si raggiungono o si entra in contatto con loro attraverso l'ascolto non c'è un esame obiettivo visivo del corpo del paziente c'è un ascolto che spesso è un ascolto silenzioso che spesso è un ascolto del silenzio e che è fondamentale nell'incontro clinico non ha importanza se poi il paziente esce dal campo visivo perché per esempio è sul lettino oppure se il paziente rimane vis a vis e quindi c'è anche proprio il reciproco guardarsi però la disciplina medica e l'incontro interumano e quindi anche tutta l'operazione della diagnosi anche della diagnosi non medica naturalmente della diagnosi psicologica della diagnosi psicoanalitica della della diagnosi psicologico clinica è un incontro ed è una conoscenza dove per dire un'altra frase che fa un po' del leitmotiv nel libro e che mi piace molto è una frase questa volta del filosofo francese montaigne che dice la parola è metà di chi la pronuncia ed è metà di chi la ascolta ecco io credo che il tema fondamentale di diagnosi e destino sia cercare di capire come l'incontro con la parola pronunciata dal clinico è un incontro che non è soltanto il parere di un esperto è la trasformazione di una conoscenza diagnosi è un termine che deriva dal greco antico dove c'è la parola gnosis cioè conoscere e c'è c'è il prefisso dia attraverso ecco quindi questo conoscere attraverso non è soltanto il clinico che conosce e si esprime con una parola sulla condizione del paziente ma anche il paziente che entra in una relazione di conoscenza con il clinico ma anche con se stesso nel primo capitolo lei sceglie chiaramente due personalità potentissime come Susan Sontag e Virginia Woolf per parlare sui modi di confrontarsi con delle diagnosi diagnosi e ci sono due frasi che dal mio punto di vista sintetizzano molto dei rapporti che abbiamo con i discorsi con le parole e le parole si sa sono abitati da fantasmi tra virgolette e un po' più avanti le parole evocano immagini e costruiscono le nostre rappresentazioni Sontag e Woolf hanno rapporti importanti con l'immagine e le parole perché lei le ha scelte sono paradigmatiche i fantasmi sono diversi tra di loro le ho scelte perché nel corso della mia vita nel corso delle mie letture mi sono soffermato sul loro rapporto con il corpo della medicina e anche con l'importanza delle parole sono scrittrici sono donne e questo non dimentichiamo che nella storia del corpo medico nella storia della diagnosi nella storia del coraggio di affrontare l'esperienza della malattia la voce femminile e l'esperienza femminile oserei dire è molto più coraggiosa di quella maschile è molto più esposta è molto più in contatto con la verità spesso drammatica del corpo in modi diversi per nel confronto con diagnosi diverse Susan Sontag una storia ripetuta di diagnosi abbastanza crudeli sul piano della malattia fisica e Virginia Woolf con una storia di diagnosi che le sono state nel corso del tempo forse anche dopo la sua morte dopo il suo suicidio applicate dal punto di vista psichiatrico incarnano però due modi diversi di mettersi nella relazione con le parole della medicina Susan Sontag vuole eliminare l'evocazione mitologica immaginaria anche irrazionale che l'esperienza della malattia e l'esperienza del corpo malato porta con sé e naturalmente ribadendo questo nel suo bellissimo libro malattia come metafora e scrivendo quindi prima della tubercolosi poi del cancro e poi dell'HIV dell'AIDS spiega quanto può essere pericoloso portare dentro le malattie un fantasma sociale un fantasma morale un fantasma familiare è come se dicesse la malattia è un incidente biologico punto e propone questa sua estrema razionalità al contrario Virginia Woolf parla in modo febbrile e in modo fantasioso e in modo fantasmatico dell'esperienza trasformativa della proprio appunto di una febbre anche fosse semplicemente di una dimensione influenzale e dice che quello è il luogo di incontri di memoria di evocazioni e di fantasmi quindi sembrerebbe esserci proprio due posizioni molto differenziate. Devo dire che riconoscendo in entrambe un grandissimo contributo all'importanza di riflettere sulla parola clinica e sull'esperienza clinica ho come l'impressione che Susan Sontag voglia dimenticare anche se non ci piace comunque l'inevitabile bagaglio invece di memoria di tradizione di cultura e di spavento che c'è dentro le malattie non è detto che questo sia bello e sia giusto che sia così ma per anche le storie che ho ascoltato le storie che ero accolto sia come medico sia come psicoanalista è impossibile pensare alla malattia come un puro incidente biologico. Nella malattia c'è una memoria familiare, c'è il modo in cui sei stato accudito, l'esperienza di grande timore, di grande spavento, di grande preoccupazione per l'ammalarsi che per esempio una madre, un genitore può trasmettere oppure c'è l'esperienza invece di una grande coraggio, di una grande onnipotenza, di un buttare il cuore oltre l'ostacolo e non preoccuparsi dei possibili accadimenti e dei possibili acciacchi e già questa formazione oppure l'esistenza di un segreto familiare, io mi ricordo per esempio che quando mio nonno si ammalò di cancro, io ero un ragazzino, lui era un uomo ormai dopo i 70 anni, ma per esempio nella mia famiglia non si doveva tanto nominare la malattia e lui non amava farsi vedere, aveva anche subito delle operazioni e quindi c'era una dimensione di segreto e questo è vero che è un problema enorme nella laicizzazione dell'esperienza della malattia che non è una colpa, che non è una vergogna, però purtroppo è un bagaglio psichico, è un immaginario che secondo me chi ascolta il racconto delle persone malate non può ignorare e quindi forse mettere vicino l'impianto scientifico direi, l'impianto positivista, l'impianto razionalista di Susan Sontag e le metafore febbrili e febbrici tanti e fantasmatiche e letterarie di Virginia Woolf è un buon modo per dire anche al lettore, non dimenticate l'importanza della scienza e dello sguardo scientifico, ma sappiate che per ciascuno di noi la malattia è una narrazione autobiografica, è una storia ed è inevitabilmente quindi una letteratura. Grazie, perché ho pensato qui in una dimensione collettiva, per esempio, non so se posso dire c'è un fantasma collettivo, perché nella pagina 33 dell'originale italiano c'è questo che nei primi anni 50 The New York Times rifiutò di pubblicare l'annuncio a pagamento di un gruppo di sostegno per malattie di cancro al senno. Le parole cancro e senno furono considerate impubblicabili e allo stesso tempo c'è questo del fantasma singolare, perché i fantasmi cambiano secondo la struttura psichica, cioè il sano, il neurotico, il borderline, lo psicotico, ma non c'è qualcosa di deterministico neanche all'interno di queste strutture. Dopotutto siamo diversi come due gocce d'acqua, come dice la poetessa Vislava Szymborska. Allora, questo è moltissimo interessante. Un'altra domanda, forse un po' più lunga qui, ma che mi ha fatto pensare molto. Il secondo capitolo viene chiamato Diagnosi e difese. Io mi sono ricordato di quel noto concetto di René Leriche che diceva che la salute è la vita nel silenzio degli organi e qualche tempo dopo Paul Valéry dice la salute è lo stato in cui le funzioni necessarie si compiono insensibilmente o con piacere. Ma ogni tanto il corpo fa rumore, si manifesta. La difesa sempre mi pareva un tentativo psichico di dire ma no, va tutto bene. Però mentre io leggevo il libro ho visto che è un po' più complesso di questo. Ci sono diversi meccanismi di difesa. E lei parla insieme a Georges Conguilain che non possiamo far coincidere il concetto di guarigione con quello di fine di una perturbazione e ritorno all'ordine anteriore. Un po' di eraclito qui, no? Non si può entrare due volte nello stesso fiume. Allora, sono due domande forse. Meccanismi di difesa nel senso di cercare di evitare la trasformazione del corpo, della psiche, di tutto. Non so, cosa ci può dire su di questo? Cosa sono i meccanismi? Dopo aver appunto dedicato il primo capitolo all'ingresso nella vita del clinico e nella vita del paziente della diagnosi e anche quindi le complessità dell'esperienza diagnostica. Tant'è vero che citando un'espressione di Carli Aspers, psicopatologo e fenomenologo europeo dello scorso secolo, l'ho intitolato Diagnosi e tormento. Il secondo capitolo, come giustamente segnala lei, chiamando l'attenzione di chi ci ascolta sul tema dei meccanismi di difesa, l'ho chiamato Diagnosi e difese. Perché se la diagnosi è la segnalazione, spesso anche molto riassunta, molto sintetizzata in una parola, in due parole, di un evento che lascia una traccia nel corpo e nella mente, non possiamo dimenticare che, fin dai tempi di Anna Freud, la psicoanalisi ha sempre cercato di sistematizzare la risposta dell'individuo a un cambiamento che ha una potenzialità minacciosa e che può provenire sia da elementi del mondo interno, ma spesso anche proviene, il più delle volte proviene, da elementi di cambiamento del mondo esterno. Tanto per fare un esempio molto di attualità, la risposta individuale e collettiva alla pandemia, dove ci sono stati alcuni che hanno avuto una reazione più introversa e più spaventata e più di chiusura e altri che hanno avuto una reazione magari più estroversa, più arrabbiata e più di uscita e anche un po' di negazione del pericolo, ecco che vediamo già all'opera, su una scala sociale, ma anche su una scala individuale, due modi diversi di fare i conti con qualche cosa che ci procura angoscia. Quindi se dovessi sintetizzare in una sola definizione cos'è un meccanismo di difesa, direi che un meccanismo di difesa è un modo con cui la nostra psiche e di conseguenza i nostri comportamenti inizia a funzionare per rispondere a qualcosa che percepisce come angosciante o minaccioso. Qui entrano in gioco quelli che giustamente lei evocava prima come livelli di organizzazione della personalità, perché ci sono delle difese che funzionano a un alto livello, diciamo così, di adattamento, di elaborazione, di difesa che non produce a sua volta danni, ma difesa che protegge davvero. Poi ci sono delle difese di area più nevrotica, che sono dei modi che danno il risultato ricercato, però con maggiori compromessi, con maggiori necessità di negoziare. Per esempio una difesa di tipo di intellettualizzazione, diciamo così, non nega l'esistenza di un problema, ma lo rende molto astratto come se non riguardasse me. Mentre invece a un livello, come citavo prima, maggior, più evoluto, una difesa di sublimazione, quindi di trasformazione in qualche cosa che ha una sua creatività, oppure una difesa come lo humor, che è la capacità anche di riuscire a giocare, non a sminuire, ma a giocare, attorno a una problematica, sono già difese più adattive. Ma a un livello di organizzazione della personalità ancora più difficoltoso, più problematico, per esempio a un livello borderline, entrano in campo delle difese che difendono, ma creando però effetti collaterali problematici, quindi la scissione, quindi l'onnipotenza, quindi la negazione, via via fino a dei livelli difensivi che potremmo chiamare difese che non funzionano, per esempio l'acting out, quindi per esempio rispondere a un'angoscia minacciosa con dei comportamenti che mettono davvero in pericolo la mia sicurezza o la sicurezza degli altri. Ecco, vedete che i meccanismi di difesa si possono leggere secondo quella che uno dei suoi grandi studiosi, George Weiland e poi Christopher Perry, a partire dal modello di Anna Freud, chiama una gerarchia delle difese. Ecco, io ho cercato di raccontare nel secondo capitolo di questo libro come la notizia di una diagnosi e ovviamente per esempio prendiamo in considerazione una diagnosi se non vogliamo dire in fausta, diciamo una diagnosi che ci costringe a cambiare qualcosa di significativo nella nostra vita, ci costringe a un periodo lungo di immobilità, ci costringe a una preoccupazione continua per dei controlli di esami medici che dobbiamo fare, ecco, in relazione a come siamo fatti, a come è organizzata la nostra personalità, in relazione insomma a mille elementi del nostro funzionamento psichico e interpersonale, può promuovere difese che possono essere di grande aiuto a noi stessi, agli altri, alla gestione, oppure difese che possono, nel tentativo di proteggerci, rendere ancora più complessa e più difficile la situazione. E io credo che un buon medico, così come un buon clinico, un buon psicoterapeuta, un buon psicoanalista, si accorge se il suo paziente sta facendo una proiezione, per esempio attribuisce qualche cosa, un'aggressività che vive dentro di sé, la attribuisce a un'altra persona ed entra in una dimensione, per esempio, paranoide in cui si sente perseguitato, ecco, credo che, senza entrare ovviamente in iperspecialismi psicoanalitici o psicoterapeutici, credo che anche un medico, un clinico del corpo e della salute dell'organismo, deve saper riconoscere come si difende il suo paziente da una diagnosi problematica, da una cura difficile, dalla necessità di monitorare la propria salute con degli esami continui, dalla necessità di astenersi da comportamenti che possono essere pericolosi e questo mi offre l'opportunità di ricordare che nelle facoltà di medicina, insieme all'insegnamento dell'apparato cardiorespiratorio, insieme all'insegnamento della clinica chirurgica, insieme agli insegnamenti fisici della medicina, è molto importante insegnare anche la relazione medico-paziente e la psicologia della relazione medico-paziente, perché non è solo una questione del carattere del medico, è un medico gentile, è un medico che sa ascoltare, è un medico premuroso, no, invece è un medico freddo, è un medico distaccato, è un medico tecnocrate. Non sono solo questioni caratteriali, c'è una tecnica, lasciatemi dire questo termine, della relazione, come fare le domande, come ascoltare, come gestire le relazioni con i familiari, come indagare nella storia appunto dei fantasmi di malattia che abitano il passato del paziente, che può essere insegnata. Quindi una delle cause, alla base, una delle ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro è medici, colleghi medici, non trascurate mai la possibilità di imparare e insegnare la relazione medico-paziente. Bravissimo, lei ha risposto qualche altra domanda qui sul sapere diagnostico, su questo pendolo tra universali e particolari, tra un'induzione dal caso specifico alla regola generale e dalla deduzione dalla regola generale allo specifico. Credo che lei abbia risposto per me questa domanda anche. Mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo perché effettivamente è un argomento che amo molto e che sento anche come paziente perché noi medici siamo anche pazienti e quindi diciamo nell'attraversare l'esperienza di essere diagnosticato ma conoscendo anche l'esperienza di diagnosticare e avendo come tutti una storia di rapporto con con le malattie ecco quando parlo di questi argomenti mi torna diciamo così l'intensità e la passione con cui ho scritto questo libro e anche in qualche modo le parole con cui ho voluto fare iniziare questo libro quando scrivo che dalla scarlattina fino all'Alzheimer tutti prima o poi riceviamo una diagnosi questo può riguardare la salute fisica come la salute mentale e implica anche come funziona appunto la nostra personalità le sue difese e come il clinico è capace di entrare in relazione con noi e di comunicare le parole della cura bravissima lei parla di humor umore e questo è un libro che parla in fondo di vita e di morte anche e curiosamente sulla morte ci sono molti scherzi e anche sulla salute mentale no Guglialen per esempio che viene citato qui e anche il parcheggio delle personalità in cui si vede come parcheggiano insomma i paranoi di borderline narcisistico gli ossessivi ossessivi eccetera tutti noi ci cerchiamo lì ci troviamo un po' l'umore può essere una via sana di uscita o invece di approcciarsi dei diagnostici io penso che lo citavo prima tra i meccanismi di difesa la capacità avere sempre dentro di sé uno spazio mentale per il gioco e questo ce lo ha insegnato Winnicott che da grande pediatra e poi da grande psicoanalista che è stato ha insegnato l'importanza del gioco ma non diciamo nella dimensione appunto ludica quotidiana che tutti conosciamo ma proprio come condizione nella mente attraverso cui è possibile entrare in relazione con un'altra persona o anche con il proprio mondo fantastico sapendo che esistono delle regole ma sapendo che può anche essere un come se nel gioco c'è sempre facciamo che io sono un principe facciamo che tu sei una regina ecco naturalmente la medicina e la diagnostica non ci consente sempre il gioco che è una riserva mentale che può essere importante in alcuni casi c'è anche una profonda angoscia c'è una profonda tristezza c'è una profonda malinconia e c'è la necessità anche di fare i conti con la realtà e spesso con la realtà della perdita e spesso con la realtà del dolore fisico da questo punto di vista è logico che quando diciamo gli umani si cimentano con questi argomenti utilizzino appunto come ricordava lei Cesar delle battute dei giochi esiste il famoso humor nero cioè delle forme anche di esorcismo relativamente alla sofferenza e poi diciamo tra i tanti esorcismi possibili o tra le tante dimensioni di relazione con l'impensabilità quasi del dolore esiste per me ed è un altro ingrediente importante di questo libro la parola della poesia l'esperienza poetica e quindi mi piace concludere questa bellissima conversazione Cesar che abbiamo avuto e per cui davvero la ringrazio con pochi versi che mi è capitato di scrivere in un momento per me molto triste cioè quando ho capito che una persona che amavo molto era vicina alla morte io stavo aspettando il mio turno in farmacia per comprare un antidolorifico e mentre aspettavo questo è avvenuto tanti anni fa ho scritto su un foglietto che poi ho tenuto in tasca per tanto tempo questi versi che dicono quando non c'è speranza di salvezza dove la morte non porta compimento lì cosa c'è in che paese siamo quello è il dolore e lì noi lo attraversiamo ecco questa idea del dolore come attraversamento e quindi anche come esperienza in cui il dialogo il conforto la presenza muta o parlante dell'altro è fondamentale ci aiuta a sopportare l'insopportabile cioè la diagnosi che inizia a farci pensare e fare pensare alle persone che ci amano e che amiamo che la vita non è per sempre grazie mille io avrei l'ultima domanda ma credo che lei abbia risposto perché io ho detto semplicemente rendersi conto della nostra fragilità ci rende più forti abbiamo avuto un'esperienza terribile enorme tra l'altro ho amici molto cari che insegnano in Brasile e che sono rimasti bloccati in Italia non sono potuti venire a insegnare in Brasile e che però mi hanno fatto tanti racconti della durezza con cui proprio nei nostri due paesi Italia e Brasile in un gioco terribile del destino ma vorrei dire anche della politica ahimè hanno sofferto molto la pandemia e il covid questo momento questo momento di 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 difficoltà profonda che il mondo ha attraversato ci dice che avevamo trascurato l'idea della fragilità cioè avevamo sempre associato la fragilità a una parola da evitare a una parola negativa mentre invece la fragilità è una parola costitutiva è una parola che è intrinseca alla caducità e alla fragilità appunto delle nostre vite e quindi conoscerla frequentarla valorizzarla essere in contatto con le nostre parti fragili proprio per aiutarci non attraverso la rimozione o la negazione ma attraverso la consapevolezza che non siamo pezzi unici mi verrebbe da dire e non siamo tutti d'un pezzo siamo fragili allora abbiamo parlato qui di Diagnosi Diagnosi e Destino di Vittorio Lingiardi questo libro uscito da poco in Brasile tradotto molto ben tradotto devo dire da Giulia Scamparini pubblicato dalla editora Aine allora voglio ringraziare Giulia Scamparini per questa bella traduzione che mi fido ciecamente Cesar di lei che ha fatto allora la ringrazio tantissimo è stato proprio un piacere arrivederla arrivederci e grazie a tutti grazie arrivederci speriamo di ritrovarci per un prossimo libro che ho sentito l'editore è interessato a tradurre si chiama Arcipelago N è uscito l'anno scorso in Italia ed è un viaggio nell'arcipelago delle tante forme di narcisismo che abitano la nostra mente le nostre relazioni e la nostra psiche per cui magari ci diamo appuntamento alla prossima traduzione così spero grazie grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti